E' sull'orlo di una crisi di nervi ma per qualcuno il limite è già stato passato il PD aquilano. La crepa aperta dopo il violento litigio verbale tra il presidente della regione D'Alfonso e il consigliere regionale Pietrucci è diventata in poco tempo una voragine dopo le prese di posizione dei vertici democrat del capoluogo che di fatto si sono messi in contrapposizione con il governatore, specie dopo la proposta di quest'ultimo, di adibire alcune Newtown a residenze per gli universitari fuorisede. Un annuncio che non è piaciuto al segretario comunale Stefano Albano né al capogruppo in consiglio comunale Stefano Palumbo che hanno denunciato l'assenza di fronte a tali proposte di dialogo e condivisione. Stesso discorso vale per il masterplan, il megaprogetto per le opere pubbliche abruzzesi che secondo i vertici del PD aquilano taglierebbe fuori proprio le realtà montane del capoluogo. Una situazione esplosiva che ha fatto scendere in campo sia il segretario regionale Rapino atteso in città per individuare una soluzione alla crisi del partito sia il vicepresidente della giunta regionale Lolli. L'ex sottosegretario ne ha avute per tutti, a partire proprio dai giovani del PD aquilano, invitati a fare più squadra e letteralmente meno pagnistei. Ma anche a D'Alfonso non le ha mandate a dire, affermando che senza il coinvolgimento delle aree interne l'Abruzzo è destinato, e anche qui citiamo la lettera, a diventare una regionetta, una sorta di appendice e fananino di coda delle marche. Cilegina sulla torta, si fa per dire, la divisione di vedute, sempre sul futuro di alcuni agglomerati del progetto case, tra sindaco Cialente e Stefania Pezzopane, con la senatrice che di fatto ha sposato la proposta di destinare alcune New Town agli studenti universitari fuori sede. L'idea comunque non convince né parte delle opposizioni, e fin qui nulla di strano per il famoso gioco delle parti, ma anche l'assessore all'assistenza della popolazione Pelini e lo stesso primo cittadino, che intende aprire un confronto con la città, Ader e Alzu, per capire quale possa essere il destino degli alloggi realizzati dopo il sisma. Un tutti contro tutti che ha acceso questa coda di inverno mite, con la prospettiva dell'elezione del prossimo anno già viva nella mente di molti amministratori, anche se non sentirete mai dire il contrario, perché le amministrative del 2017 possono sembrare lontane, ma politicamente parlando sono realmente dietro l'angolo.